buongiorno come andiamo scusate che sto a mangiare col boccone mi sono fermato adesso in campagna volevo dire una cosa che mi ha durato a mente se no mi scordavo allora aspettate un attimo non sto a mangiare questo ragazzi quello che mi hanno regalato a natale intero è quello è rimasto allora il 25 di questo mese una ragazza che mi segue sul canale mi ha sfidato non ce lo voglio crede quindi verrà qua mi ha sfidato sul canale mio a fa un video che si intitolerà aioi e peperoncino ma sfida da fan aioi a chi la fa più buona gli ho detto guarda un po' i vince gli ho detto lascia perdere vengo vengo a famo ho detto vabbè dai quindi regal 25 metterò sto video io online non lo so me cazzo se mette in diretta quindi un registro comunque saremo spontanei e faremo sta gara daioi e peperoncino ma tanto già sapete che vince bella seguitemi sul canale a breve ci vediamo col video nuovo daioi regal